l'ipotesi del deposito scorie radioattive in provincia di Trapani e nello specifico nell'area di Calatafini-Segesta, argomento da noi trattato tante volte nelle scorse edizioni. Il comune calatafemiese, attualmente a guida del commissario straordinario Francesco Fragale, approva un deliberato per dire no a questo ipotetico centro di stoccaggio. L'oggetto sono sempre le aree dove allocare l'ipotetico deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, argomento ampiamente da noi trattato alcune settimane addietro e che dei quattro siti siciliani individuati dalla società Sogin, come eventualmente i Donei, vede due di essi ricadenti in provincia di Trapani, territorialmente in Calatafimi-Segesta e Fulgatore. La regione siciliana, ad onor di Gronaca, ha istituito in tal senso un gruppo di lavoro presieduto dall'assessore all'ambiente Toto Cordaro e coordinato da Aurelio Angelini, gruppo comprendente un CTS, Comitato Tecnico Scientifico, coinvolgente le quattro università dell'isola e i comuni interessati, che come risultanza produrrà un elaborato di motivazione a sostegno della ferma contrarietà regionale alle proposte della Carta Nazionale, la cui scelta è stata giudicata dall'esecutivo Musumeci irragionevole e priva di fondamento. Governatore che, come anticipato, intraprenderà iniziative in tutte le sedi istituzionali deputate. In proposito, riceviamo e pubblichiamo un deliberato dal commissario straordinario per il comune di Calatafimi-Segesta, Francesco Fragale, adottato per dire no al deposito dei rifiuti radioattivi nel territorio calatafimese. Un'area, quella, si legge, dalle forti criticità come riportato nelle relazioni tecniche dell'assessorato regionale territorio ambiente, situata vicina a due abitati urbani, a distanza ravvicinata dal parco archeologico di Segesta, prossimo alla preziosissima suggerita di Bosco Angimbe, attraversata da un grosso bacino sotterraneo di acque che generano stabilimenti sul Furei, ma anche percorsa dal metanodotto che proviene da Mazzara del Vallo. Territorio interessato anche da vincoli del piano paesaggistico, prossimo a varie ZSC, acronimo di zone speciali di conservazione, ovvero siti di importanza comunitaria designati dagli stati membri dell'Unione con misure conservative atte a mantenere o ripristinare sia habitat che popolazioni naturali. Vedi il bosco di Calatafimi, Monte Bonifato, i monti di Castellammare del Golfo, Monte Cofano, Capo San Vito, Monte Sparaggio, Montagna Grande di Salemi e luogo di transito, nonché di sosta, per alcune specie migratorie, anche grazie alla presenza di corsi d'acqua. Il territorio di Calatafimi e Segesta, viene rilevato nel documento, presenta vocazioni turistiche, ma anche estensioni di coltivazione a vigneto con varie doc, due IGT, settori trainanti dell'economia, oltre che comunale, anche provinciale, incompatibili con la proposta esigea. Territorie con arterie e viare interne, inadeguate come quasi tutte le aree al centro dell'isola, inadeguate all'eventuale trasporto dei materiali radioattivi, così come alla messa in sicurezza delle persone nel caso di potenziali situazioni di emergenza. Un atto del commissario Fragale che fa riferimento anche alla Convenzione di Arus, ovvero al Trattato Internazionale che garantisce all'opinione pubblica e ai cittadini il diritto alla trasparenza e partecipazione in materia di processi decisionali di governo locale, nazionale e trasfrontaliero, concernenti l'ambiente. Un deposito nazionale di rifiuti radioattivi, si legge ancora, che va progettato prevedendo, sin dall'individuazione del sito, un'adeguata valutazione dell'impatto sulla salute della popolazione che delle aree circostanti. Una provincia di Trapani, poi, dalla naturale vocazione turistica, storico-culturale, dalle svariate bellezze ed eccellenze, un territorio con 50.000 ettari di superficie evitata ai primi posti in Europa, produzioni ecosostenibili, a difesa dei grandi antichi e dei prodotti bio. Un deliberato, forte anche del parere negativo, supportato dalla corposa relazione documentale, espresso dal presidente della territoriale trapanese di Sicindustria, Gregory Bongiorno, che tiene anche conto della petizione online lanciata dal Comitato Mai rifiuti radioattivi in provincia di Trapani, con oltre 40.000 firme. Un'opposizione, quindi, a qualunque ipotesi di stoccaggio scorie o ad altro materiale radioattivo sul territorio provinciale, a tutela del territorio della provincia regionale di Trapani. È un atto deliberativo per porre in essere tutte le azioni volte ad affermare la totale contrarietà all'individuazione dei siti, a presentare osservazioni, promuovere azioni utili e ad opporsi.